Chiusura della caserma dei carabinieri di Gosaldo interviene il senatore Saviane. Nei giorni scorsi il parlamentare bellunese ha preso parte all'incontro tra il prefetto Savastano, il sindaco Dazzanche, il vice sindaco Cialdella e l'assessore ai lavori pubblici del comune Marcon. Scopo della riunione è scongiurare la chiusura del presidio Gordino di cui si parla da settimane. Questo è un tema di grande attualità e che deve interessare tutti noi. Non solo Gosaldo, non solo i comuni confinanti e periferici, perché oggi tutti noi siamo Gosaldo. Ora si toglie un servizio in un comune e domani se ne toglierà un altro nel territorio vicino. Questo non va bene, perché la montagna per vivere ha bisogno di servizi e di presidi. La caserma di Gosaldo ospita un comandante e tre carabinieri. In caso di chiusura, precisa il senatore, resterebbe quello della polizia locale, rappresentata però da un solo agente al servizio di Gosaldo e dei comuni confinanti di Rivamonte e di Voltago. La popolazione ha organizzato una raccolta firme cartacea e online e in comune sono giunte numerose mail a sostegno della battaglia anche da parte dei proprietari di seconde case. Si tratta di mille sottoscrizioni in tutto a fronte di un paese con circa 520 persone. Si parla tanto di attenzione alle terre alte. Questo è il momento di dimostrare quanto ci si tiene a mantenere le zone più difficili della nostra Italia abitate e a misura d'uomo. La caserma dei carabinieri deve restare aperta e tutti noi, politici, istituzioni e cittadini, dobbiamo essere parte di questa battaglia.